Ciao a tutti e benvenuti. In questo video vedremo come pirograffare una tabletta di wood. Useremo un pirograffo di qualità molto. Con questo pirograffo puoi controllare la temperatura e puoi cambiare i tipi. Grazie a tutti. Con un pirograffo di pirograffo puoi customizzare la tabletta di wood con dame e decorazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie e, se volete, potete abbiornare al nostro canale dove troverete molti video su pirografi e hobby. Grazie.